arretramento ferrovia dibattito acceso fra ricci e la regione porta cappuccina il comune rischia un grave danno economico tutela dei disabili in arrivo i buoni sport gulliver nuovo ciclo di donazioni alle strutture sanitarie gabice dopo 15 anni rimossa la gru dell'ex mare chiaro buona serata benvenuti al nostro telegiornale nel consueto appuntamento delle 19 40 e in replica alle 20 e 40 oggi è mercoledì 6 aprile questa sera parliamo dell'arretramento della ferrovia infatti il sindaco ricci in una conferenza stampa ha accusato la regione di non percepire al meglio l'opportunità che si ha nel creare questa importante infrastruttura vediamo il servizio riuscire a portare un miliardo e otto nelle marche su 5 miliardi disponibili io credo che ci sia molto da festeggiare e mi sarei aspettato una festa a pesaro perché il grosso dell'investimento circa mille due miliardi e due su mille otto è il nodo di pesaro perché è a pesaro che rallenta la ferrovia perché è a pesaro che rientra sul mare non perché c'è un sindaco più bello degli altri tutt'altro mi aspettavo una festa così come abbiamo fatto per la capitale della cultura una festa per un grande risultato storico dal quale può partire un processo di modernizzazione per tutte le marche mentre invece ho assistito in questi giorni a un dibattito surreale facendo diventare un'opportunità storica un problema e non rendendoci conto che il problema delle marche che rischia di non passare più nessuno qua che passeranno troppi treni quindi davvero sono dovuto intervenire per fare un po' di chiarezza perché un dibattito che non ha prodotto nulla se non creare fomentare un campagnismo che nelle marche è già molto forte e col quale non andiamo da nessuna parte. Il tema Fanno secondo me è il tema strategico perché io credo che intanto le due città sono molto vicine in più Fanno urbanisticamente non è proprio come Pesaro però potrebbe posizionare la stazione in una zona abbastanza centrale in grado di non perdere passeggeri e al tempo stesso di intercettare le merci dalle indiscrezioni che abbiamo per fare anche il tratto fanese servono circa 5-600 milioni l'inserimento nella rete Tinten che il ministero ha introdotto può consentire di prendere altri fondi europei quindi se la regione smette di fare la demagogia e la confusione e si concentra sulle priorità noi nei prossimi due anni potremmo intercettare altre risorse e quindi completare l'investimento almeno fino alla città di Fanno. Se l'investimento più grosso fosse stato in un'altra città delle Marche io penso che la festa l'avrebbero fatta non è che puoi fare la festa solo quando gli investimenti magari arrivano in una città in quel momento amministrato da un colore politico diverso la regione è una regione di tutti e Pesaro non è che può essere considerato confinante con le Marche ho assistito a un dibattito come se Pesaro fosse confinante con le Marche, come se ragionassimo di Riccione, di Rimini e non della seconda città delle Marche quindi maggiore rispetto per Pesaro e maggiore capacità strategica per ottenere i risultati perché altrimenti perdiamo davvero un'occasione storica e questo sarebbe davvero peccato mortale. E dalla stazione del treno ci spostiamo di pochi metri ed esattamente al vicino parcheggio di Porta Cappuccina il Comune rischia infatti un grave danno economico ma ascoltiamo le parole del consigliere comunale Roberto Biagiotti L'amministrazione ha tergiversato tutti questi anni, si è vincolata con un compromesso e si è vincolata con un esproprio non ci sono più trattativi in corso perché il prezzo è stabilito ed è il prezzo dell'esproprio e la società proprietaria dell'area era disponibile anche a farsela espropriare perché il prezzo l'hanno già concordato non si capisce per quale ragione il Comune è ancora tergiversi e non lo voglia acquistare i soldi sono a bilancio, il problema è un altro che a me delle dispute tra Comune e società proprietaria dell'area poco interessa, a me interessa per la cerdinanza, questa è un'area che a guardarla a dire che è disadorna, che è abbandonata è un eufemismo, questa è un'area che va ripristinata allora abbiamo la possibilità di avere tutta un'area parcheggio magari servita ulteriormente in modo consono, in modo che garantisca un accesso e una friubilità migliore un altro parcheggio scambiatore al lato opposto del San Decenzio e quindi creare una possibilità di accedere al centro storico a piedi, in bicicletta, con il nuovo area che ha comprato poi il Comune Limitro fa questa, quindi accorparle tutte e due e quindi avere una potenzialità importante di numero di parcheggi, però il Comune a oggi non si capisce che cosa voglia fare e che cosa sta facendo in questo momento? Sta creando le basi per dare un grandissimo problema all'amministrazione che verrà dopo. Qui parliamo di milioni di euro, milioni di euro che qualora poi ci fosse un ricorso alla Corte dei Conti e cosa che è molto probabile, anzi è in essere, subirebbero un danno per l'erario comunale e chi lo subirebbe? I cittadini, siamo sempre noi che paghiamo e quindi io non capisco per quale ragione si voglia continuare a tergiversare in questo lo prendo, non lo prendo, lo prendo, sì però devo verificare, è stato verificato tutto, è tutto in regola, è tutta norma, ci sono i soldi, è stabilito già il prezzo, non c'è più trattativa da fare, bisogna solo andare all'acquisto ed evitare che i pendolari, cioè i nostri cittadini che fanno un lavoro fuori dal Comune di Pesaro per mille ragioni, la mattina possano arrivare in stazione tranquilli, comodi, parcheggiare e andare a lavorare sereni, non trovarsi qui chiuso perché tra un po' il proprietario chiude e ha ragione perché non può un'amministrazione prendere in giro un cittadino singolo proprietario di quest'area ma non può prendere in giro tutti i cittadini del Comune di Pesaro. Il prezzo concordato ruota intorno ai 600 mila euro, qualcosa meno, il prezzo concordato, il danno erariale che si potrebbe creare con l'esposto alla Corte dei Conti che è stato fatto, con tutte le spese poi che si aggiungono alla questione, siamo sopra circa un milione di euro, quindi io penso che anche economicamente ci conviene chiudere la partita. Il Comune di Pesaro attraverso l'assessore alla coesione Mila della Dora annuncia da oggi l'erogazione di buoni sport del valore di 150 euro destinati alle famiglie con ragazzi disabili di età compresa fra i 6 e 18 anni. Si tratta di una politica volta a favorire l'attività motoria, l'inclusione e la socialità attraverso buoni da utilizzare per l'iscrizione e la partecipazione a corsi di formazione sportiva erogati dalle società di lentattistiche pesaresi selezionate. Le famiglie potranno inoltrare domanda entro il 6 maggio presentando un'autocertificazione in cui attestano di avere un valore ISEE pari o inferiore ai 25 mila euro e di avere certificazione medica di condizione di disabilità. Domande che vanno inviate agli indirizzi mail che vi stiamo mostrando in grafica. Ed ora un breve aggiornamento per quanto riguarda l'andamento della pandemia nella nostra regione Marche che continua la sua regressione tornando ad un'incidenza di contagio inferiore ai mille casi ogni 100 mila abitanti ovvero 962. Un dato benaugurante che si accompagna ad una ridotta occupazione delle terapie intensive ferme a 10 pazienti ricoverati. Ed ora cambiamo argomento. Continua il circolo virtuoso dei doni della Onlus Gulliver che dopo aver finanziato scivoli e altalene per bambini in sette parchi cittadini ora inizia una nuova fase di donazioni a medici e operatori sanitari del territorio per ringraziarli del lavoro svolto. La prima donazione è avvenuta oggi nel centro fisioterapico ASUR ai piedi del Parco della Pace. Continua a crescere il numero di pesaresi che si rivolgono alla Onlus Gulliver. Continua a crescere il numero di cittadini che portano oggetti che non usano più al centro del riuso di via Toscana. Oggetti che hanno una nuova vita che vengono sistemati messi in vendita dalla stessa Onlus e crescono anche i proventi. Donazioni che si trasformano in altre donazioni. Vi abbiamo raccontato spesso in questi mesi dei doni di giochi per bambini in varie aree verdi della città. Ben sette i parchi giochi riqualificati dalle donazioni di Gulliver attraverso il progetto altro giro. Oggi al centro medicina di fisica riabilitazione e logopedia di via Redi Puglia centro ASUR inizia una nuova fase quella delle donazioni della Gulliver alla comunità sanitaria. Primo capitolo di donazioni che inizia con 40 felpe donate del valore di 1500 euro a tutto lo staff di riabilitazione di fisioterapico e logopedisti di questa struttura. Struttura che ha dunque un nutrito numero di personale compreso uno staff medico che oggi ha ricevuto questo materiale e ha detto un davvero sentito e sincero grazie alla Onlus. Vogliamo assolutamente ringraziare l'associazione Gulliver per questo dono che è un po' un segno forse di un messaggio positivo che è partito anche un po' dall'esperienza personale di qualcuno presso questa struttura. Quindi questo è quasi un pensare in positivo che arrivi qualcosa di buono anche al paziente, un messaggio di accoglienza, di presa in carico. Quindi li ringraziamo, noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio da un punto di vista umano e professionale. Quindi ringrazio l'associazione per questo gesto che è una grande ricompensa per tutti noi e ringrazio anche gli operatori perché poi sono i fisioterapisti, le os, gli infermieri, le segretarie che comunque ci danno una mano oltre a noi medici a tenere su questa struttura possibilmente nel migliore dei modi. L'applauso del personale sanitario di questo centro Asura è stato accompagnato da un nutrito gruppo di volontari della Onlus Gulliver che aggiungono questo progetto di donazione alle strutture sanitarie ai tanti altri che in questi anni ha messo in campo la Onlus. Ogni giorno ci impegniamo per cercare di mandare avanti tanti progetti perché poi le persone che hanno bisogno sono tante. Qui alla Gulliver si diventa parte di una grande famiglia e si cerca insomma di fare sempre felice qualcuno ed è bello sapere che il tuo contributo qui è importante e ha un valore. Quindi dai la Gulliver cerca sempre di fare il meglio per aiutare gli altri. C'è una comunità che dona e poi c'è un contraccambiare della Gulliver, c'è questo scambio, è proprio la filosofia di questo centro del riuso, arrivano donazioni al centro, arrivano donazioni dalla Gulliver alla comunità, come in questo caso comunità sanitaria. È vero, è tutto vero. Io associerei proprio la parola Gulliver nella G di gioia perché è quello che provo lavorando per Gulliver che per me comunque non è un lavoro ma è una grande opportunità che mi è stata regalata. Quindi io credo che quando si associa gioia, voglia di dare, voglia di fare un sorriso, il gioco è fatto. Non è più un lavoro ma diventa veramente non il gesto meccanico ma qualche cosa per dare agli altri, un sorriso in più e soprattutto anche tante volte un sospiro di sollievo in più per le persone che hanno bisogno. Ecco io credo che sia questo il messaggio, fare le cose con gioia, con gioia, con una sorta di sentimento col cuore. Quando le cose si fanno col cuore tutto è fatto, se no diventa tutto meccanico. E quindi l'invito è aprire le porte a tanti altri volontari e volontarie che aderiscono a questa sensibilità molto particolare? Assolutamente sì. È un invito perché io lo sto provando sulla mia pelle. Io sono qui da due anni, sono stata accolta molto bene da Gulliver con sorrisi, gentilezza e molta molta comprensione. Quindi come l'ho fatto io e sento la gioia dentro, lo possono fare tutti. Sono sicurissima. Un volontariato che è sempre più senza confini, tante anche i ragazzi e le ragazze straniere che aderiscono alla Onlus Gulliver. Le ragazze e me lavoriamo nella Gulliver e mi piace molto perché pensiamo che è un progetto bellissimo e per le famiglie con difficoltà. Siamo incantati. Da Pesaro ci spostiamo a Gabic, il cui panorama mozzafiato è da un paio di giorni ancor più affascinante per la rimozione della gru dell'ex Mare Chiaro. Un cantiere, pensate, durato ben 15 anni. Come ci ricorda in questa intervista il sindaco Domenico Pascuzzi. Come potete vedere alle mie spalle c'è questo splendido scenario da cui vediamo tutta la Romagna e dalla Romagna avevamo questo skyline che era deturpato da questa gru che ormai era tanti anni presente sul posto perché parliamo da... dobbiamo tornare indietro dal 2007. Quindi dopo praticamente 15 anni finalmente è stata smontata definitivamente. Ma quello che è stato fatto negli anni è stato quello intanto di recuperare con l'impresa la progettazione. Quindi dal 2015, quindi dal mio primo insediamento, abbiamo subito lavorato con l'impresa per far sì che potesse avere una possibilità di sviluppo quel cantiere perché per sette anni circa è proprio rimasto fermo. Per fortuna si sono ripresi anche se lentamente perché sono state tante problematiche. È ripreso il cantiere nel 2015. C'era un impegno della proprietà a smontare, quindi ad andare avanti con i lavori che quindi stanno per terminare entro marzo di quest'anno. La promessa è stata mantenuta, l'impegno è stato mantenuto. Questo non ci può fare che essere felici perché comunque riacquistiamo una vista importante del monte dal mare. È ovvio che l'auspicio è quello poi di vedere che questa opera venga realizzata definitivamente, quindi venga completata al fine di poter dare ancora maggiore vitalità al borgo già bellissimo di Gabice Monte e che possa poi portare quindi ancora più gente nel borgo perché comunque l'idea imprenditoriale è un'idea di alto livello, di alta qualità. Quindi è chiaro che potrebbe intercettare un flusso turistico veramente di qualità e andrebbe a dedichire appunto l'offerta turistica di tutta la città. È morto all'età di 101 anni il dottor Mario Scoccianti, fondatore del reparto di oculistica dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino, di cui fu a lungo primario, cordoglio da parte dell'area vasta 1 per un professionista riferimento per decenni dell'oculistica del territorio. Rinasce il rifugio del Furlo. La struttura all'interno dell'area protetta nella foresta del Monte Pietralata era inutilizzata da tempo, ma ora grazie all'accordo tra Riserva Gola del Furlo e Unione Montana-Alta Valle del Metauro è stato riqualificato e fornito di servizi in un'operazione complessiva da 60 mila euro. Domenica a mezzogiorno il taglio del nastro a quello che sarà un nuovo punto di riferimento per gli escursionisti. La stagione di danza Amat propone per venerdì 8 aprile al Teatro Sanzio di Urbino un nuovo viaggio fra le suggestioni e le sonorità del tango in occasione del centenario della nascita di Astor Piazzolla, autore e interprete musicale fra i più importanti della forma d'arte d'origine argentina. L'appuntamento è alle ore 21 con il balletto di Roma in Astor che propone lo spettacolo Un secolo di tango attraverso le coreografie di Valerio Longo. Sinfonia 3.0 celebra invece la giornata mondiale dei Rom e dei Sinti con un nuovo progetto di contaminazione tra culture e genere musicali ideato dall'Orchestra Sinfonica Rossini in collaborazione con Alexian Group e i solisti dell'Orchestra Europea per la Pace. Appuntamento quindi con il concerto etno-sinfonico venerdì 8 aprile alle ore 21 al Teatro Sperimentale in una performance inserita all'interno della stagione concertistica organizzata dall'Orchestra Sinfonica e dall'azienda Xanitalia. Ed ora passiamo al nostro periodico appuntamento con lo spazio dedicato ai libri. Questa sera conosciamo le poesie sparse del giornalista e scrittore urbinate Alberto Calavalle. Il libro che ho scritto, Poesie sparse, è così intitolato perché si tratta di poesie soprattutto civili ma ci sono anche poesie che riguardano i sentimenti, gli stati d'animo, la natura e così via. Sulle poesie civili qui siamo praticamente su due piani. Da una parte mi riferisco ad eventi già avvenuti e dall'altra parte prevedo anche avvenimenti che potevano succedere e che stanno succedendo in questo momento come la guerra in Ucraina. C'è proprio una poesia intitolata Crepuscolo sulla Terra perché ritengo che se le cose non si sistemino in via diplomatica si potrebbe arrivare anche alla terza guerra mondiale purtroppo. E poi ci sono altre poesie anche di questo genere per esempio intitolato Esodo dove si parla addirittura di interi popoli come in questo caso appunto del popolo ucraino che sta uscendo dal proprio paese per portare in salvo bambini, donne mentre gli uomini rimangono in primo piano a cercare di contenere l'avanzata nemica. E poi ci sono anche altre poesie che riguardano questo virus che purtroppo sta dilagando in tutto il mondo senza dimostrare appunto di retrocedere. All'interno ogni sezione del libro è preceduta da una nota grafica di un autore, di un artista urbinato. E allora davvero complimenti ad Alberto Calavalle. Abbiamo tanti scrittori nel nostro territorio e chiaramente fateci sapere se avete scritto dei libri di narrativa o di poesia come in questo caso mandando una mail alla nostra redazione. Invece adesso andiamo a vedere quello che è il programma di questa sera su Rossini TV. Partiamo alle 21.20 e vi portiamo a Piobbico perché questo fine settimana sono state inaugurate due mostre che vi andremo a raccontare proprio questa sera. Subito dopo questo speciale intorno alle 21.40 invece vi andremo a raccontare quella che è stata la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo organizzata dal liceo artistico Mengaroni. E poi domani invece vi ricordiamo una nuova puntata di Insieme a Canestro. Saremo in diretta alle 21.20. Potrete vincere i biglietti per le prossime partite quindi scriveteci al nostro numero Whatsapp oppure seguite il programma dalla diretta su Facebook. Gli ospiti sono Giovanni Illuminati responsabile tecnico del settore giovanile WL e Amos Benevelli ex giocatore della WL. Inoltre vi ricordiamo anche che a partire dalla prossima settimana quindi da martedì 12 aprile per tutti i martedì e giovedì alle ore 19 c'è un appuntamento fisso su Rossini TV dedicato alla comicità con il Pesce Azzurro Quiz Show. Li riconoscete? Loro sono i comici del San Costanzo Show quindi non perdetevi queste puntate esilaranti e vi aspettiamo quindi la prossima settimana. Ho detto davvero tutto l'appuntamento con l'informazione torna domani alle 7.20 in diretta quindi vi aspetto domani in diretta per la lettura dei quotidiani locali. Grazie e buona serata. Grazie. Grazie.